Mi hanno detto che è una supercar, mettiamola alla prova. Ed eccoci qui a fare un giro sulla pista di Balocco. Su questa nuova Alfa Romeo 4C abbiamo una posizione di guida impeccabile, con un handling fantastico. La macchina sull'anteriore è precisissima, volante molto leggero, che però quando si entra in curva comincia a indurirsi da vera macchina da corsa. Anche nei curvoni veloci la macchina è molto precisa, un'ottima stabilità sul posteriore. Come vedete si riesce a guidare per tutto il circuito senza mai staccare le mani dal volante. Il display mi piace tantissimo, è molto efficace e ci dà tutte le informazioni che vogliamo all'istante. Adesso proviamo l'appoggio in curva. Wow, notevole l'accelerazione laterale. Molto bella la sensazione in frenata. La decelerazione è abbastanza alta e l'ABS non lo sente entrare quasi mai. Ottimo feeling di guida grazie allo sterzo meccanico. La macchina è sì molto bilanciata, ma veramente divertente. Una cosa che rende ancora lo spirito più da gara di questa macchina è il rombo del motore. Basso rollio, grande compattezza e handling straordinario. Complimenti. Grazie a tutti. 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 Grazie.